E bella tutti neantori, io sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, ma quante news stanno uscendo in questo periodo? Non c'è tempo sinceramente di fare niente che, tac, Niantic butta fuori qualcosa. Prima di andare a vedere che cosa ci attende, ragazzuoli, attenzione, sei huevos! Sei huevos, una anche da due chilometri, mentre tutte le altre, mi sembra che ho visto, sono da cinque... Dai, dai, due, da un leaky, leaky, dai, leaky, tung! Aspettiamoci qualcosa di bello, eh, porca miseria, dai raga, sinceramente, da queste huevos in generale, dalle huevos... Non mi esce più niente di interessante, nel 100%, uno shiny, qualcosa di bello, niente, niente, ragazzuoli. Quindi dai, apprezzerei! Sicuramente non lui, sicuramente non marianine, eh, cacchiarola, due chilometri, due chilometri, dai, dai, dai... È un bello shainino, un bello shainino di piccio, sarebbe stato apprezzatissimo. Cinque chilometri! Ancora leaky, ancora leaky! Dai, 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 dai. Uh, arkin, che bello! Ma, dai, dai, dai uova da cinque chilometri, arkin, ma cacchio di huevos... Fatemela vedere un attimo L'ho presa Quando l'ho presa 29 gennaio Sì Boh raga Valutiamoli Valutiamoli Da un bel 100 Eh Magari Magari Gli altri come sono me Squaxi Non schifo Marianì Stranamente Il 10 10 10 Più schifoso Il più schifo Non può uscirci raga Noi abbiamo trovato La più monnezza Piccio Guardatelo qua Bellino Da Amsterdam 10 10 11 Likitung Un altro Likki Sempre da Amst E poi raga Già le altre schiuse Che avevamo fatto Ma niente di che E allora attualmente Wavos Siamo messi così sicuramente Raga Andiamo a mettere quella Da 2 km almeno Non facciamo i nostri Passettini inutilmente Attenzione Grubi niente Infatti vediamo un attimo Allora ragazzuoli Se andiamo qua Ok Iniziata quella appunto Di febbraio Molto bene Sotto prossimi eventi Ormai raga Non so quando vedrete Questo video Se il community day di Censi Sarà già stato effettuato Dopo abbiamo dal 5 di febbraio Il capodanno Lunare Che lo aspetto veramente Con molta ansia Raghi scatenati Perché arriva in game Un nuovo pokemon Drampa E anche possibile shiny E poi saltiamo Di una settimana L'11 febbraio Con il giorno di ride Dedicato a Desidual Di Isui Ma ne riparleremo Qui intanto attenzione Raga Ultima missioncina Non so se è quella Del team rocket Ancora Dai Screghi normale Io non so raga Perché hanno messo Bene Cioè bene Bene Molto bene Che l'hanno messa Adesso Meglio tardi che mai Si suol dire Però porca miseria Siamo nel 2024 Il game è uscito nel 2016 Ci hanno messo quanti anni Per far uscire Un canale Dedicato A pokemon go Italia E infatti allenatori Attention Ecco qua Siamo sul sito Ufficialissimo E infatti la prima news Guardate qua Seguiteci sui nostri Canali social Ufficiali Non andiamo a leggerlo Adesso raga Perché tanto Penso proprio che Allenatori interessati Si sono già mossi Non è che stavano aspettando Sta roba Ma scorrendo in basso Eccolo qui raga E Namorus Questo pokemon qua Che sinceramente Non so di che cavolo Di generazione sia Ormai lo sapete Ragazzuoli Io sono delle vecchie generazioni E Namorus In forma incarnazione Fa il suo debutto Nei ride fuori classe Cioè i ride elite Che sinceramente Ragazzuoli da un po' Che non li vediamo All'interno del game Se ricordo bene Gli ultimi introdotti Dai ride fuori classe Erano Regi Elecchi E Regi Drago Chiaramente non possibili shiny Infatti come vediamo Anche da lui Non mi pare Non mi pare No Non ci viene detto Lo shiny Ma questo è proprio un evento Ride fuori classe Ok vediamo un attimino raga Quindi quando ci sarà Mercoledì 14 febbraio Quindi di mercoledì raga Il giorno di San Valentino Che sinceramente Almeno qua da me In Svizzera Non è festa raga Fatemi sapere Nella vostra città Nel vostro paese Se è festa Il 14 febbraio Giorno di San Valentino Perché sinceramente Non so come faremo A partecipare Iniziano i ride Alle 12 Alle 13 Alle 17 E alle 18 Starteranno i ride suoi Ma prima chiaramente Avremo il huevos Con il countdown Così sappiamo precisamente In quali palestre Dobbiamo andare Ride fuori classe Bonus di completamento Dopo aver completato Ride fuori classe Contro Enamorus In forma Ammazza che scioglie lingua Versi pokemon Di tipo volante E folletto Appariranno vicino Alla palestra In cui abbiamo fatto il ride Ragazzuoli Per 30 minuti Mi sembra che a destra Della schermata Verrà fuori il timer Appunto di 30 minuti Così non dobbiamo Chiaramente calcolarlo Noi Clef Rivediamo un attimo Bella roba Rafflet Rafflet Sì io decisamente Raga sono A cacissima di rafflet Tra questi qua Sono i ride fuori classe Vabbè l'abbiamo già visto Raga ma vediamo un attimino Veloce i ride fuori classe Sono un'entusiasmante Varietà di ride Si trovano nelle uova ride Speciali che impiegano 24 ore per schiudersi Infatti raga Praticamente Cosa abbiamo detto Il 14 Martedì In giro nelle palestre Dovrebbero già vedersi Le huevos Una volta schiusa Apparirà un boss Per 30 minuti Quindi attenzione Ma non dimenticate Che i boss Del ride fuori classe Possono essere affrontati Solo di persona Quindi niente ride remoti Radunate i vostri amici E preparatevi A uno scontro epico Bomberoni Come mai vi sto mostrando I miei oricorio Adesso ve lo dirò Ve lo dirò Perché tanta robetta Tanta robetta Ne ho 10 Vabbè 10 Oramai ne possiedo 3 raga Perché abbiamo quello rosso Quello giallo Eccolo qui E quello rosa Molto bellino Che ne ho solamente uno Che l'avevo preso A capo verde raga A giugno 2022 Porca misera Se vola Voli Teltrasporta Al tempo Quindi questo qua È sicuramente il mio preferito Di quelli qui Che possiedo Dopo avevo anche il 100% Eccolo qua raga Che l'ho catturato ultimamente Guardate qua Bellissimo Che lo possiamo appunto Trovare dalle nostre latitudini Mentre gli altri Sono regionali Sono regionali Però come mai questo qua Giallo Ah perché in Brasile Giusto Quando ero stato in Brasile Spawnava lui Andiamo un attimino raga Facciamo Pokédex E infatti Non me lo posso Non posso neanche vederlo Lo stile buio Come si legge qui Per intenderci Mi manca l'oricorio blu Che sinceramente Non riesco a trovare Ma c'è poco da fare raga Qua da noi appunto Non si trova Essendo regionali Dovrei trovare un allenatore Che l'ha già registrato Magari anche dei doppioni Così da scambiarlo Ma calma raga Guardate qua Se torniamo sotto il sito ufficiale Oricorio Parti raga Bellissimi Evento di carnevale Dell'amore 2024 Possiamo dire che è un mix Tra l'evento di San Valentino E carnevale Come possiamo vedere infatti Dall'immagine raga Bellissima Con questo prato Questo cielo I quattro Oricorio Bellissimi Allenatori e allenatrici L'evento carnevale Dell'amore È in arrivo in Pokémon Go Ed è ricco di festeggiamenti Per la prima volta In Pokémon Go Con un po' di fortuna Potrete incontrare Oricorio Cromatico raga Eh sì Avete capito bene Perché fino adesso Questi signorini qua Non c'erano ancora All'interno del game Possibili shiny Ma per questo bellissimo Eventuccio qua Aspettiamoci il rilascio shiny Infatti raga Vediamo Allora Quando inizia Carnevale dell'amore Dalle 10 di martedì 13 febbraio Alle 20 di giovedì 15 febbraio Quindi raga Cos'è Due giorni Tre giorni Non è proprio due giorni Perché dal 13 al 15 E oramai è un giorno prima E un giorno dopo Di San Valentino Raga San Valentino Giornata piena Bonus dell'evento Maggiori possibilità Di ricevere caramelle L Camminando insieme Al vostro compagno Quindi mi raccomando Raga Mettetelo fuori Nella mappa Insieme alle vostre avventure Due caramelle L Garantite facendo evolvere Pokemon Quindi ci sarà qualcosa Una missione Una nostra di evoluzioni Eh sì Eccola qui Perché Donate un aspetto nuovo Al vostro fruffrino Per tutta la durata Dell'evento Possiamo trasformare Nella forma Selvatica In fruffruttaglio Cuore raga Che lo vediamo qua sotto Che io sinceramente L'avevo già fatto l'anno scorso Che anche all'evento Di San Valentino Avevano fatto una cosa simile Per cambiare il taglio di fruffrù Seguite i passaggi È semplice raga Andate sul vostro fruffrù Andiamo sul pulsante Cambia forma Per visualizzare il menu Con l'elenco dei tagli disponibili Selezionate il vostro taglio preferito Di quelli che ci sono disponibili Il costo per passare Da un taglio all'altro È dei 25 caramelle fruffrù E 10.000 unità Di polver di stella Quindi raga Fatelo Perché chiaramente serve Anche per completare il Pokédex Andremo a vedere Perché sinceramente Vorrei trovare un bel fruffrù shiny Visto che quello che possiedo Me l'aveva scambiato Cree Quindi tanta fortuna A me e a voi allenatori Incontri in natura Eccolo qui Vediamo un attimo Allora ragazzoli Perché oricorio shiny Sì se abbiamo fortuna Possiamo in trovare lui Appunto oricorio stile flamenco Che è quello rosso Che abbiamo visto per intenderci raga Possiamo trovarlo qua da noi Europa Mentre oricorio stile cheer dance Apparirà nelle americhe Che dovrebbe essere quello giallo Oricorio stile hula Apparirà nelle isole africane Va bene raga Caraibi Che è quello rosa E oricorio stile buio Che è quello che mi manca Quello blu raga Apparirà nella zona Asia Pacifica Ah è ciuspi Inoltre abbiamo anche Flabebe che apparirà Allo stato selvatico In fiori di colori diversi Molto bene rispetto All'area geografica In cui vi trovate Quindi Flabebe Fiore rosso Europa Flabebe Fiore blu Asia e Pacifico E Flabebe Fiore giallo America Con un po' di fortuna Potreste incontrare Flabebe fiore bianco E arancione A prescindere dall'area In cui ci troviamo Ma non sono possibili shiny Infatti eccoli qua raga L'UVDISC Non poteva Non mancare Ormai pokemon cuore raga San Valentino Ci deve stare Frufrino Eccoli qua i vari oricorio Quaxli Come mai Quaxli Che c'entra Non lo so Va bene va bene Sotto ecco Rosiglia Ma non lo so raga Flabebe bianco E Flabebe arancione Ok Vediamo le missioni Missioni dell'evento Che possiamo trovare in giro Nei pokestop Come ricompensa Spinda Giusto raga Eh sì che torna Finalmente spinda Con il motivo cuore Molto bellino Molto bellino L'UVDM pokemon Molto raro all'interno Del game Non si può trovare selvatico Ma solamente tramite delle missioni in giro Collezione Eccola qua in arrivo Una sfida di collezione Ispirata al carnevale Dell'amore Completata per ricevere Punto di esperienza Polvere di stella E un incontro con Roserade Nuovo oggetto avatar Ma cos'è raga Un tamburello Qui mettiamoci a fare Oramai la samba brasileira Che al bomberone Oscar Farà molto piacere Chiaramente ci saranno anche Di concorsi al pokestop E quindi sfoggiateli Bonus esclusivo per gli allenatori E le allenatrici In Brasile Porca di quella miseriaccia Raga io c'erò a ottobre lì Oramai non è proprio qui dietro l'angolo Ricerca tempo a pagamento Ci sarà chiaramente anche Il bigliettino qua a pagamento Raga O per ogni evento Li stanno mettendo Per un dollaro O l'equivalente Della vostra valuta locale Che ci darà 5 incontri Con spinda Molto bene Allenatori Ma quanti eventi Stanno annunciando All'inizio anno Questi di Niantic Sperando che andando avanti Nel 2024 Si vada sempre meglio Chiaramente Allenatori Cosa ne pensate Delle news Che abbiamo visto oggi Sinceramente L'eventuccio di Oricorio Mi attira parecchio E voi Avete registrato Tutti e quattro Gli Oricorio E per oggi Bomberoni Da Gamer Joe È veramente tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre aggiornati E se il video Raga vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bellissimo like Gamer Joe vi saluta E ci vediamo alla prossima Ciao Babers